è la sindrome, è la sindrome, è la sindrome, guardalo il formato, guardalo con la sua, penso che non ci ci come il cabrio, non so, andranno per due e quattro, è la sindrome comunque, non è normale, cioè io ho la macchina davanti, non è che posso, e loro regolarmente sarà che la vogliono guardare, sarà che la vogliono vedere, sarà che non l'hanno mai vista, sarà che gli piace tanto, ma loro devono testare, è sul passo a destra, loro che hanno i vitali, non gliela fanno, se uno non sta almeno a due pilotte, al Ferrari mi sembra un passo a destra, perché se c'hai i finali devi andare fuori, è il loro pensiero, e allora, essi bravo no, essi c'hai la gg, ma veramente, sarà il posto in giro nuovo, perché il prodotto italico l'è fatto a Maranello, essi c'hai la gg, essi bravo che io l'ho dualettata e faccio scazzare questo, eccolo, guardalo, 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 guardalo questo, guardalo, guardalo, perché questo non sempre non va, perché la viscia arriva, e te la faccio pagata, eh, no, 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 te la faccio pagata, questo è un uffao, te la faccio pagata e devi pentir, non lo devi fare mai più, non lo devi fare mai più, te devi pentire quello che hai fatto, pentiti, c'è sta il traffico, c'è sta il traffico, c'è sta il traffico, c'è tu non mi ammazzo per te, eh, mi ha superato a destra e quello non sei potuto ne va, è una sindrome, niente, è una forma di malachia, è arriva prima lui, ho appena superato a destra e a destra, stasera la moglie io l'ho da, di dritto, di rovestro, ma di destra, stasera, io devo andare a Terracina a lavorare, a fatturare, torno in la sinatra nazionale, a farmi compagnia, ma secondo te, non male, c'è sta il traffico, ci metto un po' di più, sto nell'utro moderno, sto alla favola, per strunde, se me cazzo, non si aprono le macchine come pari, eh, non mi chiamo Mosè, bella pittina, ciao!